Niente, faccio una difficoltà, perché non so come dirlo al Presidente. Presidente, purtroppo anche le mie due bimbe vogliono andare a scuola, cioè ci tengono un'ostaggia della scuola, vorrebbero vedere delle maestre. Voi non avete idea di quanto mi hanno detto, ho detto ma che scuola la famiglia nostra, pure se ti senti il Presidente della Regione che pensa di noi, che tu vuoi andare a scuola e sei ingipato, sei ingipato, è una cosa, una presa di composizione contro, che vuoi dire, contro la Regione. Bimbe, ma che... forse siete amiche di dei magisti, c'hai votato dei magisti, non lo so, un caldo, cioè perché? Non so, non so dove ho sbagliato. Vedete, loro la mattina a colazione prendono il latte con plutonio, però parzialmente scremato, e le piace pure la mozzarella di plutonio e il bufalo, a botte. Cioè che se la prendono, però io potrei mai immaginare, eppure io, per quanto mi riguarda, quella è mia moglie il problema, ma io che ho incuccato delle cose, cioè dei sani ricicli, con i filoni, diciamo che deve tenere inganno alla maestra, niente. Scusi Presidente, io non so di questo passo dove andremo a finire, il caduto e il bognasco, guardate, è una cosa terribile. Scusi Presidente, io non so di questo passo, guardate, è una cosa terribile. Scusi Presidente, io non so di questo passo, guardate, è una cosa terribile. Allora, guardate, è una cosa terribile, è una cosa terribile.